ah 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 no facciamo ciao ragazze eccoci qua con un nuovo video io sono Rolida, doce, lei e della sorella Siamo qua nel mio canale ma registreremo anche un video sul canale di Nancy proprio appena finito questo Vostra challenge schifosissima Esatto lo trovate già online quindi mi raccomando appena avete finito di vedere questo video Cliccate sul link e andate sul canale di Nancy a vedere anche l'altro video che è bellissimo Ancora più epico di questo dove veramente vomiteremo l'aria Praticamente abbiamo deciso perché abbiamo anticipato in un vlog di fare una challenge praticamente epica Dove mangiavo tante schifezze che ovviamente noi non mangiavo mai perché sapete che mangiamo tutte cose sane, naturali, buone buone E abbiamo deciso di fare questo video per farci tante risate assieme Con un sacco di cioccolato Sì speriamo di non vomitare perché poi sono cose tutte piene di olio di palma, di schifezze colossali Quindi veramente lo facciamo un po' per punizione, per scommessa E un po' così abbiamo la scusa una volta ogni tanto di tornare a vedere e di sgarrare Già lo so che sperate che ci sentiremo male Anche noi siamo umane e ci mangeremo queste cose E queste schifezze, chi del buono No ma io questo, questo Ci mettiamo questa qua sopra E questa è l'unica cosa che parete Sana E questa abbastanza sana tra virgolette perché è molto meglio della Nutella Cioè è proprio più buona, a me piace tantissimo questa qua E noi nella pubblicità abbiamo comprato tutto noi E poi sulle fragole la cioccolata, sulle fragole anche Dai, ora ora poi diciamo qual è la cosa più brutta e qual è la cosa più buona Esatto, daremo un voto a tutte le cose Questo lo dobbiamo riscaldare, vai Fragole con la cioccolata Con la fake Nutella che è ancora più buona Eccola qua Solo che col freddo si è un po' conintostata E questi? No vabbè, no vabbè Questo è nuovo, dobbiamo sentire provare Adesso facciamo vedere, sapere com'è Tutti questi, oh mio Dio Questo, è questo Oh Sherry Oh mio Dio C'è anche questo Sì E poi c'è anche Grisky No vabbè, questi sono i più buoni del mondo E il pandorino Ah no vabbè No vabbè Pandoro con la fake Nutella Pronti? Viva Dopo questo video ingrasseremo 10 chili perché praticamente mangeremo 10.000 calorie in 5 minuti Vai Ok Noi siamo disposte a tutto, solo per voi lo facciamo Guarda qua Fandorino con il cioccolato Dai Io penso forte Dai Penso forte ragazze Da domani dieta Forza Ma cosa magna? Ma quando il cioccolato c'è stato? Oh mio Dio Tutta la cioccolata si è sciolta Oh my God Cioè si è sciolta la cioccolata Oddio È tutta sciolta Oh mi figlia Che cosa hai finto? Che cosa ti parano eh me giuro o no vabbè Che cosa mi parano sia come giuro Maledetto No vabbè Voto? Mh Voto? Voto? 8 Mh Io 3 Voto? Non No io 10 no io 8 io voglio provare le M&M's mi sto giocando il pastotto? eh si eh non va le scoccate M&M's dai proviamole M&M's nel frattempo mangiamo un po' di questi a formaggio dai vestiamo tutte le cose dai questi almer blu almer rosa mamma mia buonissimo ma la cosa buona è mangiarne 3 contemporaneamente donna mia tutti i colori diversi 1,2,3 buonissimo buonissimo voto 9 8 buonissimo formaggio a me piace il salato vai nooo che buonissimo no ma che schifo è ma dai no oddio no con la nutella buonissimo ma che dici no 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 buonissimo no fa buon devo dire questo quindi è buono l'uovo vai con questo siamo solo a 5.000 calorie ce la possiamo fare da arrivare a 10.000 dai questo praticamente è dark bueno limited edition yumi 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 chichi ragazzi dai se você était ta normale è più buono del classico più intenso o と buono buono più dolce sì sì buono Sette, sono d'accordo, questo è la fine, li proviamo ma donna mia, questi sono i nostri biscotti dell'infanzia, noi quando eravamo piccoli ne mangiamo un sacco di crispy, a non mi piace attendere dolce salata, sei scema, adesso? vai, grisby, 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 no vabbè, no vabbè, anche poi questi qua che ho preso io sono al cioccolato e c'è l'ultima scatola tutta brutta ma io l'ho presa comunque proprio la drogata perché gli altri hanno un gusto nocciola però mi piacciono questi qua al cioccolato perché è più intenso invece con le nocciola sono un po' sciabili ma si sente la nocciola però? quelle nocciola sono ancora più dolciate senza parole per me questi biscotti considerate che è tutta sta roba noi non li mangiamo mai perché comunque sono pieni di grassi quindi per me non li comprate perché per me sto manzando a voi li mangiano di nuovo nel 2035 però questi secondo me i crispy sono i biscotti più buoni del mondo io secondo me sono i migliori no vabbè questi sono i cookie i cookie per i miei cookie londinessi quelli là con le gocce c'è qua poi questi sono come confezionati questi sono una bella pavolina dai vabbè mi è griffio griffio 10 non si batte pregolina con cioccolata questa è una cosa un po' aprotisiaca porno aprotisiaca? è un po' porno no aprotisiaca guarda prima ti prendo davvero è proprio un contrasto è un contrasto è un contrasto eccitante è un contrasto particolare ragazze mamma mia sto tipo sto tipo per vomitare solo perché non sono abituata mi sto stendendo male ti giuro cioè tengo un ricursito di formaggio ah ecco ma tu sto formaggio non te lo mangi a tutto io proverei uno di questi fa male vedi così ci togliamo dai non c'è da bocca uno di questi uno di questi grossi ma questo è questo quale è la differenza? questa è nocciola c'è dietro la nocciola questo è creme brulee io questo voglio e questo è extra fondente io questo ok ho dedicato io prendo creme brulee ragazzi top del top questo è creme brulee questo ce l'ha portato in sfidanza lo di Nancy si bravo sempre si ha lo dato portaci di sempre guarda come è grande vabbè cici mouah 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 ha pieno di roba dentro mouah c'è caramello dentro mouah mouah ho mangiato tutte queste robe mouah oh mio dio mouah mouah mi devo poter tu a te c'è caramello dai ah Nancy c'è caramello dentro mouah 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 col caramello non si chiamano che il caramello creme brulee mouah mouah mamma mia mouah 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 ma che sta dentro mouah 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 mamma mia non lo so perchè stai continuando a mangiare 3 ore questo ce lo conserviamo basta ti ferma tu ti senti male però continui a mangiare non c'è la droga come è la droga questa droga continua in droga bene ragazzi ultimo più rotto mmm bella ahahah 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 mi sento mi sento il mio mi sento il mio mi sento come c'è la città quello di questo è tutto ragazzi il cioccolato di una tarta felicità mi sento sai come quello del film jody secchino che mangia le cose e poi vola è tutto spaccato devo fare una doccia vediamo appuntamento al video sul canale di rensa datelo a vedere patatine e robe e poi adesso come siamo che già sto per vomitare sicuramente nel video di rensi vomiteremo quindi non perdetelo lasciateci tanti like se vi abbiamo fatto sorridere e fateci sapere nei commenti se vi piacciono queste cose vi dici altri challenge che vorreste che noi facessimo ciao e non comprate questa roba non compratela ciao 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 ciao